Il retroporto funziona, gli investimenti fatti sugli interporti di Bagnoli e Fernetti stanno dando i frutti sperati al punto che le due aree non bastano più e il sistema necessita di nuovi spazi, anche al coperto, preferibilmente nella struttura di Cervignano e l'analisi del numero uno regionale degli spedizionieri, Stefano Visintin, che illustra il quadro prospettico per l'area triestina e del suo Interland. Quindi credo che l'investimento abbia avuto un ritorno e credo che ci abbia dato la possibilità effettivamente di portare dei traffici che prima non potevamo in nessuna maniera raggiungere per la mancanza di spazi attrezzati. Auspicherei anche la realizzazione di nuovi magazzini e di nuove tettoglie sia nell'area di Bagnoli sia poi, guardando un po' più in là, nell'interporto di Cervignano che per noi comincia a diventare un centro molto significativo di interscambio delle merci. Quanto invece ai traffici, la contrazione del 3% nei primi otto mesi dell'anno non preoccupa gli operatori, considerando il raffronto rispetto al livello degli altri porti del paese e le prospettive futuro dell'Eoscalo, in cui i progetti di investimento da MSC sul Molo VII a Lungheria, all'Ex Aquila, non possono che far pensare a una nuova fase di allargamento dei mercati di riferimento. È un dato che non ci preoccupa, perché a livello europeo la flessione è del 5%, però per esempio in Nord America la flessione è attorno al 12-13%, quindi diciamo che aver perso, tra virgolette, solo il 3% è un dato comunque confortante. Questo ci deve dare la carica, assieme a quanto detto prima, per conquistare fette sempre maggiori di traffico che in questo momento non vengono presso il porto di Trieste. Quanto alla necessità sul fronte degli interventi pubblici, semplificazione delle procedure, implementazione del personale di dogana e sburocratizzazione restano in testa la short list degli spedizionieri. Ci servirebbe decisamente un aiuto da parte delle istituzioni pubbliche per avere più personale a disposizione delle dogane, a disposizione degli enti di controllo e delle procedure, soprattutto procedure doganali, più flessibili rispetto alla rigidità che normalmente riscontriamo in determinati tipi di procedure.